Oggi prepariamo dei golosi babà al rum con la farina V320 di grano toscano molino borgioli Versiamo la farina V320 di grano toscano molino borgioli nella planetaria Sbricioliamo il lievito e azioniamo Cominciamo ad aggiungere le uova una ad una finché saranno completamente assorbite Aggiungiamo lo zucchero e il sale Sostituiamo la frusta a foglia con quella a gancio Aggiungiamo il burro un fiocco per volta fino ad assorbimento e lavoriamo per una decina di minuti Quindi copriamo e lasciamo lievitare 3 ore Con le mani bagnate prendiamo una manciata di impasto e lo strizziamo negli stampini Riempiendoli per 3 quarti Copriamo e lasciamo lievitare un'ora Quindi inforniamo a 200 gradi per 25 minuti Nel frattempo prepariamo la bagna sciogliendo lo zucchero nell'acqua calda e aggiungiamo il rum Una volta raffreddati cinergiamo il babà per un minuto Li strizziamo delicatamente e li farciamo a piacere Irresistibile Irresistibile